Sono anche le 8 e mezza di mattina, io sono ancora addormentato Buongiorno e ben ritrovati, come potete vedere sono in divisa perché come ormai quasi da tradizione in questo weekend di marzo andiamo all'FSB Fitness Sport e benessere in fiera Udine una fiera fondamentalmente dello sport Questo è il terzo anno consecutivo che siamo presenti con lo stand e personalmente questo genere di eventi mi piace molto perché a parte che è sempre un'occasione per stare con i compagni di sale e tutto quanto ma è anche una grande occasione per vedere tutto l'ambiente sportivo e buona parte dell'ambiente sportivo regionale, anche un po' extra regionale cioè nella fiera veramente di tutto, dalle arti marziali di cui non hai mai neanche sentito parlare al padiglione olistico, oli, essenze, candele, gong, cose strane comunque vedete ma basta chiacchiere e andiamo subito a immergerci in questa edizia 2017 dell'FSB Show e Grazie a tutti. 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 Io come al solito c'ho la mia vocina rasposa da secondo giorno d'evento perché io se parlo per più di 5 minuti mi va via la voce, quindi sì, lo sapete che quando faccio i video di due giorni e il secondo giorno sono sempre senza voce, non preoccupatevi, è normale. Comunque sia, mi sa che sto ripetendo comunque un sacco di volte oggi, non importa, comunque diamo il via anche a questa seconda giornata in fiera. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.